Kinder Cereali Questa è un'altra sfida che non possiamo perdere Ci vuole Dick Sun, il nostro campione contro le macchie Dick Sun è un vero campione, anche contro le macchie più ostinate Ecco fatto, così abbiamo vinto due volte Dick Sun, campione contro le macchie Perché te coprirle? Calze levante Latte Parmalat, perché? Latte Parmalat? Lo prendeva mia madre Io ci sono cresciuta e a lui piace tanto Il latte è davvero importante E per loro solo il meglio va bene E se la sesta flotta lo sceglie, Parmalat deve essere molto buono Per i suoi standard di qualità applicati nel mondo Latte Parmalat, qualità senza confini Regalati una Seat per Natale Tua con 500.000 lire di anticipo 1, 2, 3 Lo porti con te Nuovo intervallo Proteggi Sleep Nuovo intervallo Il Proteggi Sleep della Lines Spaghetti Barilla Aggiungono sapore ad una nuova storia d'amore Dove c'è Barilla c'è casa Un viaggio alla scoperta del regno animale e dei suoi segreti Richiedi subito all'167803000 Professione Natura Un'equipe di ricercatori ti condurrà dal Nord America alla Patagonia Dai Caraibi alla Sierra Californiana Telefona gratuitamente da tutta Italia All'167803000 Direttamente a casa tua In anteprima assoluta A sole lire 116.000 Le quattro videocassette in cofanetto di Professione Natura Con Videorai e Fonilcetra La natura è di casa